Caso Baxi Pengo, dura replica di Andrea Zonta, le accuso del segretario Dem Luigi Tasca. Impegno per Bassano, punta il dito contro la sindaca Elena Pavana, deve ascoltare la città. Bruciato il Drago di Vaia a Lavarone, l'opera dell'artista altopianese è andata completamente distrutta. Ubriaco, insulta e minaccia il personale del CUP all'ospedale di Castelfranco. Romano Dezzelino, migranti in arrivo, abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensano. Ultimi giorni di caldo torrido, gli esperti annunciano un abbassamento di temperature già domenica. Quattro comuni, Bressanvido capofila per realizzare una ciclo pedonale di 16 chilometri. Visita in carcere del sindaco di Cittadella Massimo Zenn, recluso a Verona. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di Bassano e dintorni. Lo avete visto dai nostri titoli, torniamo a parlare del caso Baxi Pengo e della polemica politica in città. Dopo le parole di ieri del segretario del PD cittadino Luigi Tasca, arriva la replica del vice sindaco Andrea Zonta. Si salvi chi può, dopo le critiche, dopo le delegittimazioni, dopo i mea culpa diventati subito colpa tua. Ecco che il vice sindaco Andrea Zonta, tirato in ballo dalle dure parole del segretario del PD cittadino Luigi Tasca per la questione Baxi Pengo, non ci sta e contrattacca. Facciamo però prima un passo indietro. Ecco cosa aveva detto Tasca ai nostri microfoni. Dove vive la sindaca Pavana? Perché qui viene da pensare che c'è qualcuno che muove i fili dietro di lei. A questo punto forse nemmeno più ritengo sia utile parlare di Elena Pavana, ma mi rivolgo direttamente agli assessori che probabilmente hanno mosso più i fili alle spalle, quindi parlo dell'assessore all'urbanistica e dell'assessore ai lavori pubblici, il vice sindaco. Colpo basso o colpo al cuore? Zonta non si sottrae al duello rusticano e replica così. Io non tiro le file di nessuno anche perché il buratinaio nella vita non l'ho mai fatto e vedo di fare dell'altro e in modo diverso. Credo che probabilmente il segretario del PD non sappia come funziona un consiglio comunale, probabilmente non c'è mai stato dentro. Qualche volta, come nel caso Baxi Pengo, non si chiude il cerchio a 3,60 e viene fuori un pareggio. Ma nessuno tira le file a nessuno. Poi sulla questione del meglio il commissario che continuare a governare, se lui ne è convinto, si faccia promotore con il suo partito e mandi a casa la maggioranza. Dopo essersi alleggerito dai sassolini, o meglio dai macigni nelle scarpe, il vice sindaco traccia i prossimi passi del cammino che l'amministrazione intende seguire. L'intenzione sembra essere proprio quella di spacchettare il caso Baxi dal caso Pengo, separandone i destini. Io non credo che bisogna legare le questioni dell'uno e dell'altro. Le questioni dell'uno e dell'altro erano legate su una richiesta di poter usufruire di spazi che in questo momento sono di proprietà e usati da Pengo. Se ci sono delle alternative che la proprietà e pertanto Baxi ci prospetta, noi siamo disposti ad accoglierle. Ecco, dobbiamo tenere presente dal punto di vista politico che non possiamo abbandonare un'azienda di quel calibro. Altro tema caldo in città è sicuramente il presente e il futuro del Genius Center. Impegno per Bassano punta il dito contro la sindaca Elena Pavan e dice deve ascoltare la città. Che confusione sarà perché non ascoltiamo. Chi fa confusione e chi non ascolta? L'amministrazione di Bassano. Chi lo dice stavolta? La lista civica impegno per Bassano che in un comunicato sulla bocciatura rimediata dal progetto Genius Center cala il carico di critiche sul metodo scelto da chi governa la città. Promettere senza ascoltare i cittadini. E poi i risultati sono questi. Senza portare ad alcuna soluzione concreta. Giulia Bindella sottolinea la gravità degli avvertimenti e delle parole messe in chiaro dalla presidenza del Consiglio dei Ministri sul Genius Center idealizzato dall'amministrazione e dai privati. Attenzione, fermatevi un attimo perché la spesa è eccessiva e non è certa la tenuta del progetto. Noi siamo propositivi e siamo favorevoli al fatto che venga interpellata la città e i cittadini innanzitutto. Quel progetto l'aveva detto già il nostro capolista Roberto Marin quando aveva trasmesso le sue dimissioni. Andava al di là delle cifre che erano state paventate nella conferenza stampa. A distanza di un anno vediamo che ha avuto ragione. Noi chiediamo che venga ascoltata la città. E alla fine l'amarezza per tempo, risorse e occasioni perse e per l'ennesimo incidente di percorso dell'amministrazione comunale si legge in calcio al comunicato. Povera Santa, un nome tanto bello dato a un luogo senza identità, non capito né condiviso. L'unica cosa per cui si potrebbe chiamarla in causa è il fatto che questo Genius Center è calato dall'alto, dove senz'altro Santa Chiara siede, lei sì, sugli scranni giusti. E adesso parliamo del Drago di Vaglia alla Varone, un'opera che è andata in fiamme. L'opera dell'artista altopianese, completamente distrutta, ha suscitato lo sdegno di tutti. Le fiamme in pochi minuti lo hanno completamente avvolto e divorato. Se ne è andato così il Drago di Vaglia, l'opera d'arte dell'artista altopianese Marco Martalar, posizionata a Varone sull'Alpe Cimbra. Ecco ciò che rimane del grande Drago, alto più di 6 metri, costruito con 2000 scarti di arbusti, legno di risulta della tremenda tempesta Vaglia. È grande lo sconforto dello scultore. Non pensare a tutto il tempo che ho dedicato a fare quell'opera lì, che in 20 minuti sia andata persa. Tanta fatica per fare, poca per distruggere, è proprio così. Il rogo è scoppiato ieri sera poco prima delle 22 con fiamme visibili anche da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, non è esclusa la pista dolosa. Quando è la natura a fare un disastro la comprendi, la capisci, perché non lo fa in maniera colpevole. Quando invece l'essere umano fa lo loro scelgo. È difficile da metabolizzare. Un'opera che aveva richiamato migliaia e migliaia di visitatori e anche oggi sono molte le persone che hanno raggiunto il luogo dell'incendio. È forte il dispiacere della comunità di Lavarone. Ma lo rifarà il drago? Eh, questo è troppo... Cioè non puoi fare una cosa che è unica. Cioè ogni pezzo è unico. Non lo puoi... Non lo puoi ricostruire da zero. Cioè... Boh... Adesso come adesso non mi viene in mente niente. Sono qui, sono venuti su delle persone anziane che piangevano proprio come aver perso un caro. E andiamo avanti con la cronaca. Ci spostiamo a Castelfranco. Insulti e minacce al personale del centro prenotazioni dell'ospedale dovuta intervenire la polizia locale. Una persona alterata è entrata all'interno del CUP. È molto aggressivo. È iniziato a urlare, a offendere le persone sia a chi era lo sportello, sia a chi ovviamente era la antistante per aspettare appunto di prenotare delle visite. Che era uno stato alterato, pensiamo, legato a un uso di alcol inappropriato. Ubriaco in condizioni igieniche precarie ha fatto irruzione al centro prenotazioni dell'ospedale di Castelfranco Veneto insultando e minacciando il personale e i cittadini che stavano attendendo il loro turno. A rendersi protagonista dell'ennesimo episodio di tensione in una struttura sanitaria è stato un 55enne di riese più decimo. Questo ha comportato ovviamente un po' di paura tra gli astanti, compreso il personale del CUP, anche se poveri sono spesso e volentieri preparati a prendere i improperi dalla gente. Io devo ringraziare la celerità degli agenti della polizia locale perché come sono stati chiamati sono arrivati subito e hanno sostanzialmente tranquillizzato le persone che erano presenti e soprattutto sono riusciti a rendere innocuo e quindi a calmare la persona che manifestava questa aggressività. L'uomo aveva nel frattempo imbrattato di sangue e urina l'area del CUP. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine, è stato segnalato ai servizi sociali del suo comune. Al di là del caso specifico, il caldo intenso di questi giorni contribuisce al malessere psicofisico dei soggetti più fragili. Nelle ultime 24 ore sono stati numerosi gli ingressi per malori nei pronto soccorso della marca. Sono aumentati un po' i casi di accesso ai pronto soccorso, abbiamo avuto 10-12 casi, per fortuna niente di grave, nel senso che sono stati messi in osservazione. La cosa di tenere sempre presente è chi prende e fa una terapia per l'ipertensione che chiaramente parlare col proprio medico curante o comunque vedere di ridurla sostanzialmente perché gli episodi di ipotemia, cioè di mancanza di forze, di caduta, eccetera, possono avvenire proprio perché utilizziamo la stessa terapia che prendevamo d'inverno e chiaramente con il caldo abbiamo meno bisogno di utilizzare questo farmaco e soprattutto dobbiamo idratarci tanto perché è fondamentale. Accoglienza migranti nel Bassanese, una situazione al momento di stallo, ma noi siamo andati a Romano Dezzelino a chiedere ai cittadini cosa ne pensano. Arrivo dei migranti nel territorio comunale, lei sarebbe favorevole o contraria? Distinto direi, contraria. Dovrebbero alloggiare secondo lei? Caserme inutili, non so, oppure nelle case vecchie da sistemare, ma non è semplice. Arrivo dei migranti nel territorio, lei sarebbe favorevole, contrario e soprattutto dove metterli? Favorevole sì, dove metterli un problema, perché gli spazi vedo che non ci sono e l'accoglienza penso che deve essere non soltanto limitata a un dormitorio, ma qualcosa in più, insomma. Mi sono stato emigrante, però ne ho mai messo sul campo. Siamo andati a lavorare, siamo andati a lavorare, abbiamo prima di entrare nell'azienda, cioè nel posto, siamo andati, mi ha fatto la domanda, avevo già un posto di lavoro e prima di avere tutte queste cose, dovevo farmi un mazzo. No, come qua, che gli dà, senza aver niente di ritorno. A certo limite, beh va bene, adesso gli ha troppi. Contraria, l'extraria su terra, che è meglio, per conto mio. Ultimi giorni di caldo torrido, gli esperti annunciano un abbassamento delle temperature a partire da domenica. Temperature attorno ai 36, 37, 38 gradi, anche 39 localmente, per quanto riguarda i valori massimi. Il problema è che anche le temperature minime non saranno molto sopra la media, difficilmente scenderanno sotto i 20 gradi e nei prossimi giorni arriveranno a essere attorno anche ai 23, 24 gradi. Quindi ci sarà parecchio caldo rispetto alla norma anche durante le ore noturne. Sono gli sgoccioli di un agosto caldo, anzi bollente, fino alla fine e tra pronto soccorso presi d'assalto per colpi di calore e malesseri dettati proprio dalle temperature elevate di questi giorni, gli esperti rassicurano, perché le previsioni annunciano cambiamenti e ormai dalla settimana prossima il caldo torrido sarà solo un ricordo. Almeno fino a sabato insisterà l'anticiclone subtropicale africano che è responsabile di questa fase particolarmente calda. In effetti le temperature sono molto sopra la media e continueranno ad esserlo fino a sabato quantomeno. Tra domenica e lunedì l'anticiclone cederà anche sulla pianura e quindi si comincerà ad avvertire una diminuzione di questo caldo a norma. E una coppia di coniugi si è rivolta a noi di Rete Veneta per segnalarci le condizioni in cui versano alcuni marciapiedi a Bassano. Vediamo. Ci troviamo in via Bachelet a Bassano del Grappa. Come vedete i marciapiedi si trovano in condizioni disastrose tra rattoppi d'asfalto, buche e dislivelli tanto che diventa molto pericoloso praticarli soprattutto per chi è costretto su una sede a rotelle e per chi ha problemi di deambulazione ma anche bambini e anziani. Tanto che un nostro telespettatore ha deciso di chiamare Rete Veneta per denunciare questa situazione. Se esco un attimo posso fare poca strada e poi devo tornare a casa perché non si riesce. C'è un su e giù che non finisce più. Si va molto male. Per cui cadere è continuo. Anche lei è caduta. È un attimo, solo ti distrae un attimo. Poi con lui, questa elettrica si riesce. Prima aveva l'altra, proprio non riuscivo neanche a spingerlo. Ci sono delle buche tremende. Per riuscire finalmente a uscire un po' con lui e prendere un po' di aria c'è sempre il rischio di inciampare e di rovinare la carrozzina e se cade è un disastro. Già, è proprio un disastro e Teresa Bertoncello e Sergio Velo hanno deciso di rivolgersi alla nostra redazione perché dicono così non si può andare avanti. non solo per chi come loro affronta le difficoltà di una vita costretta su una sedia a rotelle ma anche per i tanti anziani che abitano nella zona. Tutto il marciapiede che è ridotto in quella condizione? Tutto il torno, fino in fondo e poi anche da parte di là. Voi vi eravate già rivolti al comune per chiedere una sistemazione? Pare di sì ma non hanno fatto niente. questa è la realtà perché io sono costretto a rimanere in casa e uscire un poco come vedrei è difficile anche scendere. Cosa chiedete al comune? Che almeno sistemino il peggio non dico che asfaltino tutto perché si sa che non riescono a fare ma almeno dove ci sono le buche più grandi vicino ai tombini è un disastro per non inciampare almeno. E vi ricordiamo i nostri recapiti per quello che riguarda le segnalazioni di degrado di patume di sporcizia di problemi in città potete scriverci noi come sempre raccoglieremo i vostri messaggi e daremo spazio alla vostra voce. A proposito di segnalazioni ieri abbiamo mandato in onda una segnalazione di un nostro telespettatore che denunciava erba alta lungo la ciclabile di via Roncalli a Rosà ebbene oggi è prontamente intervenuta l'amministrazione comunale oggi con le nostre telecamere siamo tornati in via Roncalli a Rosà sono passate poche ore da quando un nostro telespettatore ci ha segnalato l'erba alta lungo la pista ciclabile l'amministrazione comunale rosatese è prontamente intervenuta con lo sfalcio per ridare decoro e sicurezza all'area noi ringraziamo come sempre i cittadini perché dalle loro segnalazioni si vede che tengono al territorio e questo ci fa solo che bene anche noi siamo attenti alla cura del territorio gli sfalci e le ciliature sono riprese la scorsa settimana quindi contiamo entro questa settimana di terminare i lavori di avere tutto a regola d'arte questa è stata un'estate diversa dalla scorsa la scorsa eravamo preoccupati sul tema dell'acqua e della siccità quest'anno invece siamo particolarmente impegnati sul fronte del verde perché è impegnativo riuscire a stare dietro a tutto un progetto quello della pista ciclabile di via Roncalli non è ancora terminato e che il sindaco spera di vedere completato quanto prima diciamo che via Roncalli è un tratto di pista ciclabile tra gli ultimi realizzati non è ancora terminato perché c'è il tratto a nord per cui contiamo di partecipare a un bando e ricevere un contributo per poi terminare effettivamente quella che è la ciclabile e poterla inaugurare a tutti gli effetti come merita una pista ciclabile apprezzata dalla comunità di Rosà e in particolare anche da San Pietro che è la frazione verso cui si dirige e a proposito di piste ciclabili un importante contributo della provincia di Vicenza dà il via al progetto per la ciclo pedonale che coinvolge numerosi comuni con Bressanvido capofila quattro comuni uniti da 16 chilometri di ciclo pedonale tra Bressanvido capofila del progetto Posso Leone Quinto e Bolzano Vicentino che andrà a servire un bacino di quasi 20.000 persone residenti nei quattro enti andando a raggiungere la ciclovia del Brenta e dalla provincia di Vicenza un contributo di 955.000 euro necessari per il primo stralcio di intervento atteso da tempo per garantire la sicurezza a ciclisti e pedoni Questa pista ciclabile è inserita tra le piste strategiche all'interno dell'ambito provinciale e che risponderà a un collegamento importante dalla città di Vicenza verso l'ambito bassanese I nostri cittadini stanno davvero attendendo da molto tempo questa opera e con questa azione possiamo finalmente iniziare a rispondere concretamente ai bisogni dei nostri cittadini per la mobilità su strada oltre che per l'aspetto turistico anche per i piccoli spostamenti spostamenti casa lavoro casa scuola dei ragazzi più piccoli Entro il 31 dicembre verrà definito il progetto esecutivo poi si andrà in gara e i lavori saranno affidati entro il prossimo 30 maggio con l'apertura del cantiere prevista per l'estate 2024 E oggi è un giorno speciale per una delle persone più anziane d'Italia festeggia i 108 anni nonna Clorinda Bortolanza di Castelfranco Veneto dieta sana e parsimoniosa un po' di movimento questa la sua ricetta di salute originaria di Cittadella dove è nata il 23 agosto del 1915 di professione insegnante abita da sempre a Castelfranco questa sera viene festeggiata dalla sua grande famiglia dalla figlia Daniela i nipoti i pronipoti anche dal sindaco Stefano Marcon che le porterà gli auguri della città auguri a cui ci uniamo anche noi e adesso spazio per alcune brevi notizie dal territorio il comune di Bassano ha stanziato 120 mila euro a favore delle società sportive con un settore giovanile al loro interno che sostengono in particolare i ragazzi di Bassano nati dopo il 2006 e gli atleti disabili al via dal 24 al 28 agosto la nona edizione della Sagra dei Scalchi che vede unite le amministrazioni di Rosai Cartigliano insieme al quartiere e parroci di Sant'Anna finalizzata al mantenimento della chiesetta dedicata a Maria Bambina oltre che al supporto di numerose iniziative sociali visita in carcere del sindaco di Cittadella a Massimo Zen in buone condizioni fisiche e psicologiche ha trovato così Massimo Zen il sindaco di Cittadella Luca Piero Bon che ieri gli ha fatto visita con la compagna nel carcere di Verona dove si trova dopo la condanna nove anni e sei mesi per omicidio volontario per la morte di Manuel Major a cui aveva sparato mentre stava fuggendo con due complici dopo aver razziato alcuni bancomat a Barcon di Vedelago nel Trevigiano per Massimo Zen ex guardia giurata residente a Cittadella le porte del carcere si sono aperte il 17 giugno prima a Padova poi a Verona dove è stato trasferito una settimana dopo per alcune minacce al sindaco Piero Bon la compagna ha raccontato che sta aspettando di potersi rendere utile con qualche lavoro anche in carcere la sua preoccupazione è tutta per la famiglia e la gestione degli anziani genitori nel frattempo continua la mobilitazione si attendono infatti le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione che dovrebbero arrivare il primo settembre per decidere quali azioni intraprendere è tutto per questa edizione di TG Bassano prima di salutarci però intanto vi ricordo l'appuntamento in prima serata con il focus del nostro direttore Luigi Baciali gli ospiti di questa sera saranno Corrado Cortese Mario Fabris Settimo Gottardo Morena Martini Alberto Panfilio Valentina Pilon e Marco Zabai io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e adesso vi lascio ai vostri sms a tutti grazie a tutti